Per le ragazze sono negato Questa cosa del per le ragazze sono negato in realtà l'ho fatta proprio per cercare nella mia ingenuità di controbilanciare quell'immagine macista che mi era stata appioppata da Super Califrigida che era la cosa uscita subito prima mi è proprio venuto naturale far capire quanto in realtà non me ne fregasse un cazzo di interpretare sempre lo stesso personaggio è sempre il personaggio figo, è sempre il personaggio forte è sempre il predatore sessuale e adesso che l'ho risentita mi sono ricordato di questa cosa però appunto questo look molto alla Steve Arkell e questo testo per le ragazze sono negato in realtà nella mia testa era proprio il contrattare che sentivo io di voler subito mettere anche solo per dire quello era un personaggio, questo è un altro personaggio quello era una storia, questa è un'altra storia